Un'emozione da poco, oltre la montagna, quando nasce un amore senza pietà. Con i brani più celebri del suo repertorio, Anna Ox ha incantato il pubblico di Piazza Sorelle Arduino. Una scoglietta in strapiena, con i fan accorsi da diverse province, ieri sera ha assistito in visibilio al concerto della cantante Varesema di origini albanesi. La Ox ha riportato in auge i grandi successi degli anni 80 e 90, i brani più recenti del suo repertorio, come La mia anima d'uomo, presentato lo scorso anno al Festival di Sanremo. Ancora una volta Open Village ha portato a vittoria un artista in grado di richiamare fan da mezza Sicilia. Nelle settimane scorse erano stati Raff e Stefano Di Battisti a esibirsi in Piazza Sorelle Arduino, ma non solo musica è contenuta nel ricco cartellone estivo di Open Village. Al foro, dal 17 al 23 agosto, è in corso una mostra d'arte al centro donna di Scoglietti. iscriviti al nostro canale iscriviti al nostro canale Non esistimolo Grazie a tutti.